Uè ragazzi, io mi sono Dammino e ben ritornato in un'altra fantastica puntata della Minecraft Best Build. Oggi andremo a vedere come costruire uno specchio con gli standardi. Vi ricordo sempre di lasciare il like ed iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Detto questo, passiamo al video per iniziare. Come sempre, sigla! Ed ecco qua, ho preparato un bellissimo corridoio con siepe annessa, bellissima, per la costruzione di oggi. Ecco qua ragazzi, allora, prima di tutto bisogna fare uno standard e ci serve uno standardo azzurro che si fa in questo modo. Ok? Vedete qua il crafting. Benissimo, andando avanti dovete posizionare lo standardo in basso a destra nella crafting table e mettere in diagonale tre pezzi di colorante bianco, ovvero la farina d'ossa. E vi verrà uno standardo di questo tipo. Poi mettiamo lo standardo in alto nella crafting table nel centro e come vedete nel video mettere dei lapislazzoli in questa maniera. E vi verrà uno standardo di questo tipo. Ripetiamo la solita cosa di prima però invece dei lapislazzoli con la farina d'ossa. E mettere sempre lo standardo in alto della crafting table al centro. E vi verrà una cosa di questo tipo. Ripetiamo per l'ennesima volta sempre come il passaggio numero due, quell'apislazzoli con lo standardo in alto nella crafting table nel mezzo e gli lapislazzoli messi in questo modo. E vi verrà una cosa del genere. E ultimo passaggio, qui potete decidere voi come colorarlo, ovvero bisogna fare la cornice. E io l'ho fatto in questo modo. Nera, grigio scuro, grigio chiaro e bianco. Secondo me questi quattro sono i migliori colori da abbinare a uno specchio del genere. E se devo scegliere, i più belli sono il nero e il bianco. Detto questo ragazzi, spero il video sia stato utile e di vostro gradimento. Come sempre, lasciate like se volete continuare a vedere questa serie. E sinceramente ho tantissimi altri standardi da portarvi e tantissime altre costruzioni. Quindi dagli con i like. Ci vediamo in un prossimo video della Minecraft Best Build. Da Mina è tutto. Di nello studio. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!